Si avvicina il weekend dell'orgoglio alpino con due giorni dedicati alle penne nere, nello specifico del battaglione Feltre e del gruppo artiglieria di montagna di Agordo. Sabato e domenica il raduno degli alpini animerà l'ex caserma Zannettelli, riaprendo per molti lo scrigno dei ricordi. Si attendono picchi di 2000 penne nere per la sfilata di domenica mattina. 13 anni fa gli ultimi militari si chiusero il cancello alle spalle per la dismissione definitiva dell'area che oggi è al centro di un processo di riqualificazione. La festa di questo weekend è stata preparata a dovere con la manutenzione del piazzale da parte dell'Anna di Feltre. Sabato mattina l'alza bandiera in caserma all'inaugurazione di due mostre dedicate al mondo alpino e la cerimonia al vicino monumento ai caduti. Secondo momento di raccoglimento al monumento di Farra in attesa della consegna, il pomeriggio al Teatro della Sena, del premio Penna Alpina per la nostra montagna, riservato a chi si è distinto per azioni positive per la comunità. La sfilata partirà domenica mattina alle 10.30 dall'ex caserma Zannettelli, dopo la messa per gli alpini. A questo appuntamento si attendono perlomeno i numeri dell'anno scorso, quando a Feltre sfilarono 2000 cappelli con la penna.